Una bellissima giornata, è uscito il sole, il mare è perfetto, tutte le premesse per una splanida regata. Sicuramente, come le barche che partecipano alla nostra regata della Polio Plus sono in acqua, pronti per la partenza perché è stata rimandata di un'ora per motivi di sicurezza. Il nostro club, il Rotary Club, è contentissimo di questa manifestazione che quest'anno è per la terza volta che noi la facciamo partire qui da Ischia. In questa manifestazione vi è pure un po' di simbolismo. Noi vediamo queste vele, le vele di queste imbarcazioni che vanno verso il traguardo, che per noi sono una serie di traguardi. Al di là del fatto che debbano arrivare a Napoli, noi a Rotary interessa principalmente il traguardo di eliminare la poliomelite nel mondo. E quindi questo è una goccia, il nostro contributo è una goccia nel discorso generale dei soldi che Rotary investe per eliminare questa malattia nel mondo. Quindi i traguardi sono molteplici, ci sono anche traguardi turistici che noi pensiamo o riteniamo di poter attirare gente sull'isola d'Ischia. E quindi una serie di cose che ci permette di essere contenti che la terza manifestazione della mille vele per l'Apolio, che parte da Ischia, è stato un successo per il nostro club. Ringraziamo di nuovo la Lega Navale che ci ha dato il supporto tecnico per l'inizio di questa manifestazione e tutti i club di Napoli che hanno partecipato. Ringrazio pure l'amministrazione comunale di Ischia che ci ha permesso una serie di interventi per la realizzazione di questa manifestazione.